A Maniago è successo qualcosa di comune per quel che succedeva allora. Tutti gli altri comuni attorno erano danneggiati. Alcuni, così come Maniago, non avevano dei crolli, ma avevano delle case seriamente danneggiate e poi c'era il terrore di entrare nelle case. C'era il terrore di entrare nelle case. Succedevano dei fatti. Quindi, gente che non voleva entrare in casa, anche se non aveva dei danni palesi, evidenti, ma la paura era parecchia. Io devo confessare, ero fra questi, fra quelli che avevano tanta paura. Però, se dovevi fare determinate cose, le dovevi fare. Un episodio abbastanza dimenticato, ma non da noi, non da me e dal collega Polesel o da altri che a quel tempo prestavano la loro opera, specialmente nell'apparato pubblico. Noi non abbiamo dimenticato. Quelli che siamo qui ancora, con la capacità di ricordare e di raccontare. Quando è venuto il terremoto del settembre, 76, non è che la gravità della situazione sulla staticità degli edifici fosse di molto cambiata. E di molto cambiata la paura, però. Tutti coloro che abitavano negli edifici alti, nei condomini, avevano il terrore di rimanerci dentro e li hanno abbandonati. Poi è iniziata quell'opera di sopralluogo che i tecnici, le cosiddette terne di allora, facevano sugli edifici per stabilire se fossero ancora abitabili oppure no. Ma ritorno ai condomini e Maniago, di condomini di una certa dimensione, abbastanza alti, c'erano. Questi si sono svuotati perché l'abitare a qualche piano in alto, l'oscillazione era molto più avvertita rispetto a coloro che abitavano in case più basse o ai piani molto bassi. Si sono svuotati i condomini ed ecco che si è presentato un problema, cioè quello della vigilanza per evitare che malintenzionati potessero accedere agli stessi condomini e procurare dei danni. L'amministrazione comunale ha chiamato me e altri rappresentanti delle forze dell'ordine per vedere di coordinare e di impostare un servizio di vigilanza in modo da poter assolvere queste esigenze, vedere che malintenzionati non accedessero a questi condomini abbandonati. E come facevamo? Noi avevamo mille altre cose da fare. Non potevamo dedicarci tutto il giorno a fare il servizio e di notte poi vigilare sui condomini. Che cosa è accaduto? Io ho provato a chiedere soccorso e disponibilità a degli altri corpi di Polizia Municipale. Prima di tutto nella nostra regione, corpi che distanti dall'epicentro, magari non avevano avuto assolutamente danni di alcun tipo e se avessero potuto mettere a disposizione personale per venirci a dare una mano per quelle vigilanze che stavo dicendo poc'anzi. Non ne ho trovati in questa regione, ma non per cattiveria. Era perché erano impegnati anche in altri centri che avevano le nostre stesse esigenze. Bene, mi sono rivolto al comando del corpo della Polizia Municipale di Verona, comandato allora dal colonnello Dante Compri, che ricordo sempre con grande piacere. Ho detto al comandante, hai qualcuno da potermi mandare per fare questo tipo di servizio? Non ha esitato un istante. Mi ha detto sì, io ti mando le mie pattuglie con i miei veicoli. Tu provvedi ad avere le autorizzazioni. E così è accaduto. Il comune di Verona ha mandato in servizio a Maniago delle pattuglie e il comandante si è solo tanto raccomandato. Mi raccomando, gli devi trovare un alloggio dove dormire e poi dove consumare i pasti. Ricordo bene che Polesel, che è qui presente con me, si è dato da fare per ricercare dei mobiletti da appendere al muro che avessero uno specchio perché questi signori dovevano farsi la barba. Ma pensate, esigenze di questa portata minima, ma che però erano importanti per assolvere queste cose. Dove li mettevi? Li abbiamo alloggiati nelle scuole elementari del Capoluogo. Nelle scuole elementari del Capoluogo sono venuti con le loro auto. Abbiamo trovato una grandissima disponibilità e tutto questo non viene ricordato, ma noi lo ricordiamo.